buon giovedì a tutti da marcus ben ritrovati pronti per una nuova estrazione allora il 57 avete visto ormai che gli abbinamenti sono i soliti 40 45 48 49 ruota di bari l'estratto determinato per tentare l'estratto determinato su bari prima terza e quarta la più forte comunque rimane la prima per il 57 bari le secondarie la terza e la quarta adesso veniamo un attimino a per quanto riguarda il 90 allora martedì è uscito il 90 a roma nella quinta posizione quindi il 90 che è uscito su roma l'ha dato in 123 tre colpi allora adesso ritorniamo allo schema che vi avevo fatto vedere due tre giorni fa quindi c'era di buono quindi il 90 differenza che è andato a finire proprio a venezia perché abbiamo visto che a firenze era già uscito quindi dava come risposta di riflesso quindi la sua gemella roma adesso cosa rimane rimane venezia che vi ho fatto vedere già l'altra volta venezia e bari venezia e bari ritornano forti attenzione per motivi di frequenza credo proprio che bari e venga perché per secondaria perché venezia come abbiamo visto nel grafico lineare che adesso andremo a vedere mi dà in primis venezia poi l'ultimo 90 che è uscito vi faccio già vedere cosa potrebbe succedere quindi il 90 che è uscito a roma vediamo che percorso fa 1 2 3 4 e 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 90 a milano 90 a napoli adesso andremo a controllare il 90 di milano e di napoli ma rimane il 90 che a venezia potrebbe affacciarsi allora io vado subito al grafico lineare e andremo a vedere il 90 proprio di venezia guardate le condizioni del 90 venezia per quello vi sto dicendo attenzione perché adesso dopo roma il 90 potrebbe arrivare proprio come risposta veloce a venezia non dimenticate la sua gemella bari quindi primariamente secondo me venezia alla meglio perché guardate venezia come si propone e guardate poi bari come si propone guardate vedete ha molta meno frequenza sì che nessuna soglia di uscita non è da sottovalutare per carità però guardate bene allora il 90 come è messo adesso buono anche lui per carità però se noi andiamo vedere venezia guardate che differenza è ambata contata proprio a venezia vediamo un attimino la conta che andrebbe stata fatta vediamo un po si arriva firenze arriva a venezia vedete come prima quindi subito venezia poi in automatico bari però bisogna vedere perché ognuna può rispondere subito a modo suo quindi comunque le più indicate sono venezia e bari bari venezia qua ci sono le posizioni di venezia mi raccomando quarta terza e prima ma non non tralasciate la quinta posizione perché avete visto che è arrivato proprio nella quinta posizione ambata contata ha guardato proprio se stessa non ha guardato nessun metodo nessun risultato nessuna ricerca come poteva essere l'otto più più gold ma ha risposto con la sua proprio perfettamente tecnica ovvero ambata contata era data a roma e firenze quinta a roma centrata come la copione adesso ritorniamo allo schema quindi carta e penna i due 90 che rimangono sono il 90 a venezia e il 90 a bari il 90 bari guardate proprio forte nella quinta posizione come ambata contata ci suggerisce vedete quindi prima quarta e seconda scusate quinta terza e seconda mentre invece a venezia quarta terza e prima però fate voi fate voi potete mettere stato semplice e poi che ne so mettere un estratto magari mettere la quinta e la e la quarta che sono le più forti no magari non mettere tutte queste queste posizioni ma magari mettere proprio la quarta e la quinta più forti e poi magari la quinta e la terza bari e più forti e poi come stato semplice non dimenticate l'estrato semplice quindi venezia e bari adesso le pronte e indicate però noi se andiamo a vedere come prima la il 90 l'ultimo 90 che è uscito su roma lo dà in arrivo a milano e napoli andiamo a vedere quindi col grafico lineare anche milano napoli allora milano guardate milano penso che sia veramente bellissima milano guardate guardate milano 90 36 presenze guardate come si livella quindi milano potrebbe essere quella più colpita anche lei quindi dopo venezia e bari milano milano guardate le posizioni terza quarta e quinta ambatta contata arriva sempre in quinta tenete conto di milano milano questo è un 90 particolare anche lui perché presenta forte la terza posizione la quarta e la quinta guardate di nuovo la grafico lineare come si prospetta quindi il 90 a milano è forte adesso andiamo a vedere napoli la sua gemella mostra meno meno frequenza guardate napoli e guardate milano guardate milano guardate che bello 36 presenze napoli 34 presenze ma dice la sua così quindi vediamo le posizioni comunque di napoli scusate ho sbagliato tasto scopri posizione guardate forse la prima e la seconda quindi questa è una valutazione del nuovo 90 secondo me il 90 milano e venezia e bari sono i più forti quindi venezia bari e milano sono i più forti adesso da tener conto per gli appassionati del 90 attenzione questo pronostico dedicato ai novantari ai novantenni ai 90 gold superstar ecco qua quindi presenza napoli questa vedete del del 90 forte in prima seconda e poi vabbè nella quinta posizione che dove potremmo andare ambatta contata quindi napoli questa qua che secondo me non ha non ha importanza vedete a poca importanza secondo me invece guardate un attimino milano guardate come bene organizzato milano che può oltretutto le posizioni le da proprio vedete nelle ultime tre posizioni dove potrebbe arrivare ambatta contata quindi milano venezia e bari rimangono secondo me le più forti non devo dire nient'altro quindi queste sono le posizioni di milano del 90 e poi ritorniamo lo schema venezia sono queste qui potete fare magari la quarta la quinta la più forti e poi la quinta e la terza come più forte ok per bari quindi bari questa qui e venezia questa qui milano invece è questa qui guardate basta milano ripeto bari e venezia con questo breve aggiornamento è tutto ci risentiamo mi raccomando 57 veramente bellissimo su bari ci sono le conferme dalla distanza 9 le conferme di amata contata ci sono le altre tecniche che confermano comunque il 57 a bari quindi il 57 avrà la meglio su bari mi raccomando un abbraccio a tutti marcus alla prossima e a dopo ehi non dimenticati di iscriverti ma soprattutto attiva la campanellina perché facendo così potrai ricevere la notifica dei nuovi video grazie l'assabanza questo untuko è ok io qui qui è io qui è